Roma, la donna e l'Eglia Spendaziona! Perché anche adesso che hanno preso la regione Lombardia, che sono sulla regione Lombardia, che cosa stanno facendo di così gratificante verso la classe operaia? Nulla! Non stanno facendo nulla! Perché tanto comunque io sto andando sottoterra, tra qualche giorno la mia famiglia è finita, cosa faccio? Li porto in mezzo a una strada e poi... Scusi, lei anche la tessera vedevo! Certo, certo che ho la tessera, del 2013, perché quella del 2014 non la rinnovo più! Me la fa a vedere, ho visto che ce l'ha lì! Pronti! Eccola qua! Eccola qua! E questi 30 euro che io ogni anno ho pagato, li ho pagati per che cosa? Per avere che cosa? Nulla! Perché da parte della Lega non c'è nessuna amicizia! Perché si guardano bene solo fra quelli che sono agli alti borghi, diciamo, e invece noi che siamo la classe operaia non gli interessa niente! Pagliamo le tasse! Abbiamo il diritto di passare! Se noi qualcuno non prende più il stipendio, ho finito di difendere altri! Ascolta! Ossi è stato l'emblema della Lombardia e del Nord per vent'anni, comunque, è stato l'uomo che ha sempre gridato Roma ladrona per dire, purtroppo lui si è comportato allo stesso modo dei ladroni, quindi simbolicamente ha il suo significato, il suo voto vale quanto quello di Letta e di Alfano al Parlamento in questo momento, né più né meno! Sì, praticamente perderete il lavoro tutti quanti, tutti quanti, perché lo Stato non vi tutela!